Monsignor Andrea Bellandi sabato prossimo sarà ordinato arcivescovo metropolita di Salerno, Campagna, Cerno. La cerimonia di investitura si terra nella cattedrale primaziale di Salerno. Bellandi sarà il centoquindicesimo arcivescovo di Salerno e succede a Luigi Moretti, costretto alle dimissioni per motivi di salute. L'ordinazione episcopale di Bellandi sarà ufficiata dal cardinale Giuseppe Bettori, arcivescovo metropolita di Firenze, con al suo fianco il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, e Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto. Tra i passaggi più rilevanti della liturgia di ordinazione spiccano l'esibizione e la lettura del mandato di Papa Francesco, praticamente la bolla di nomina al clero e ai fedeli, l'imposizione delle mani del consacrante e dei vescovi presenti sul capo di Monsignor Bellandi e la preghiera di ordinazione attraverso cui verrà conferita la pienezza dell'ordine sacro, l'episcopato, tanto per intenderci. Al termine della preghiera di ordinazione Monsignor Bellandi sarà vescovo di Salerno. Dopo i riti esplicativi, l'unzione, la consegna dell'anello, l'imposizione della mitra, l'arcivescovo sarà invitato a sedere sulla cattedra episcopale. Alla concelebrazione eucaristica anche altri porporati, tra cui il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI del cardinale Raffaele Martino, protodiacono del collegio cardinalizio, oltre ad arcivescovi e vescovi della conferenza episcopale Campana e di altre regioni d'Italia. 282 saranno i sacerdoti che concelebreranno la messa. Il servizio liturgico sarà garantito dai seminaristi del seminario metropolitano Giovanni Paolo II, mentre la minimazione musicale sarà curata dal coro dioceseano in collaborazione con il liceo musicale statale Alfano I di Salerno. Il nuovo arcivescovo ha voluto che le offerte raccolte dagli operatori della Caritas siano devolute interamente per il sostegno delle famiglie povere e indigenti. Monsignor Bellandi riceverà il saluto dell'istituzione a Piazza Mendola a partire dalle 17 di sabato prossimo. Prima di raggiungere il Duomo, l'arcivescovo, come da tradizione, farà tappa presso il santuario di Maria Santissima di Costantinopoli, in Piazza Sant'Agostino, dove sosta privatamente e rivolgerà alla Beata Vergine Maria un atto di affidamento per il suo ministero episcopale in diocesi. Una volta, Palazzo Arcivescovile si recherà nella sala predisposta per l'avvestizione degli abiti liturgici, alle 18 l'inizio della Santa Messa stazionale, con il rito di ordinazione episcopale.